musica bella raga xdxd oggi siamo in un luogo su web games oh yeah c'è questo fapper che mi vuole chillare di brutto proprio questo scemo con i pantaloni di ferro allora si oggi iniziamo proprio con stile perchè stavo guardando rispondendo a commenti si è proprio voi tu che mi stai guardando adesso stavo rispondendo a te è improbabile però vabbè si era un mio follower ehm 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 quindi bombi stavano chi uccidendo oh cavolo scappa scappa please no ok mi volevo fregare amore dove cavolo è ah è proprio cazumum 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 ok il coso il coso barra microfono lontano corri ok lontano dalla bocca quindi probabilmente si sentiva solo sussurrare oh yeah bravo spade inferro io ti lascerò stare ehm dei funghetti ma che bellini no ma su serio questo la spada no bravo bro dove potrei andare ha ho buttato i funghetti ok allora mi sembra crescere da fare un parkour ma proviamo a vedere qua se c'è qualcosa ok bravo sono un pro nel parkour lo so lo so infatti mentre rispondevo al commento ho detto boh è da un po' che sto scrivendo ma non è che magari è già rilassata la partita è così tanto per perché me l'ha detto l'istinto proprio si ho guardato ebbene si era appena iniziato è morto ah è morto oh cazumum oh yeah bravo cazumum muori eh dove di là dovrebbe esserci una cesta in questa cosa qua di legno barra terra barra tutti i materiali possibili e immaginabili dai pro player pro gamer oh yeah salta però please oh yeah ma mamma te proprio l'epicità da qua si scende forse si ecco con la bocca non c'è ancora andato nessun fa per ha ok schifo però ha un orco le frecce e anche un'ascia in legno c'è troppo pro troppo pro diciamo un po' tarzan so solo che devo salire qua perché c'è un'altra chest oltre a quello non c'è ancora andato nessuno qua perché eh eh c'è c'è anche un alberello quindi adesso pro gamer pro ma eccoti qua schifez e allora dove andiamo a quella chest la missione chest la a quella chest la ottimo aia passiamo di qua a è qua sotto più o meno vero eccola la tato ti ho visto non mi sfuggi oh yeah vedete se oh cavolo mi sono fatto male per niente ma vabbè ok là ci sono due così overpaw 1 gg ok ok questa apre una cosa oh cavolo che cosa ma che ma che cavolo un diamante chi lo butta in terra chi lo butterebbe in terra un fa per e basta e poi gli stick o cavolo che fortuna ah forse era quello che ho left ato prima che fortiun che fortiun ha la spada in pietra quello no oh ok vorrebbe rompermi la barca questo qua anche un bel elmo in ferro e adesso scappiamo e adesso scappiamo eccolo qua dai che lo sciottiamo di brutto scappi? yes scappa ah ancora la barca noi seguiamo fa più! oh cavolo scappa 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 veloce ottimo devi scaper ah scemo dove andiamo non lo so iron sword volevo con l'elmo yes ah c'è lo cesto qua ne approfittiamo se riusciamo ad avvicinarci ok eh dai ok niente di che speravo avere una spada in pietra così avrei potuto fare qualcosa di utile ho già finito con le frecce ottimo ne raccogliamo un po' da qua ok ok dove'è la barchetta? barchetta ecco ti qua ciao ti voglio bene ti vb barchetta c'è che scema non sei nemmeno ripreso ecco accidenti sei inutile non sei nemmeno ripreso le frecce moh vabbè andiamo in giro un po' a vedere la gente bella bella raga chi vuole morire? ci sono scarsi che vogliono morire? al centro non c'è nessuno 360 veloce ok eccoli là niente niente c'è su che scemo c'è su che scemo c'è su che scemo si è suicidato che scemo la sua spada che scemo che scemo oddio ma che cretino nient'altro di bello di utile no che cretino che cretino si è buttato da qua nabbo devo trovare un po' di armor un po' molta armor proprio proprio please quello è un team niente da fare tanto così per eh good eh nice ah si perchè l'altro l'ho chillato andiamo da questo non si è accorto di me che scemo che scemo che scemo che scemo che scemo che peccato era fregato era quasi fregato muori no, The Survival Games 2 ma è quello quello della città abbandonata no, la città no che sfiga la odio io questa mappa perché non trovo mai dove non so mai dove ci sono le ceste e poi è cavolo se dispersivo è super dispersivo ma dove cavolo sono? dai che chiudiamo questa mani nude accidenti dai dai che tanto è quasi morto oh cavolo la c'è splayed in iron accidenti dai che sei quasi morto che lo so accidenti ma quanto cavolo di vita hai non fa più accidenti si è arrivato alla fine della mappa si è arrivato alla fine della mappa lo sai vero? no era quasi morto dai sei mangiato la mela d'oro quindi ogni seconda recupera mezzo cuore fa più accidenti accidenti lo so per uccidere peccato peccato avrebbe fatto molto comodo con la chest plate con ferro con le scarpette con i piedi adesso andiamo a prenderci adesso andiamo a prenderci adesso chi lo ritrova più nessuno accidenti 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 trullalì trullalà trullalà ok andiamo qua che ci sono delle ceste anche qua su sì quelle sono trappole quei buchi là ce n'è una qua ecco qua la cesta oh che schifo voglio cibo please mezzo mi sto morendo di fame quello è sottointeso accidenti dove era l'altra ah ok c'è devo buttarmi nel buco là guardate la fame continua a scendere e poi non dovrei essere bloccato speriamo di no facciamo la nera no 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 sono bloccato lo so non dovrei correre però cavolo devo trovare qualcuno da uccidere perché così riesco a prendere anche l'assore furtivo lag sì non molto impercettibile qua c'è qualcosa qua c'è qualcosa buono troppo grande ah sei fregato brother sai ecco grazie che bisogno di cibo eh un po' un po' di cibo già l'aveva dai poco poco ecco qua poi con un bastone cosa voleva fare bastone contro bastone perché gli faceva vedere lo stick vabbè no comment non era una una uno scontro ad armi pari mi sa di no almeno a me non è sembrato molto armi pari voi adesso sbirciamo da qua ah c'è una chest qua niente di che andiamo fuori a prenderlo dai proprio adesso lag che so dove è andato e boh accidenti che perdo tutti boh entriamo qua ah ma c'è sta là eccolo ho visto il tuo nome sai in quell'edificio in questo edificio qua eccolo vedete anche voi il nome eccolo allora devo solo capire in quale edificio è eccolo non si capisce boh andiamo a cercarlo in questo dai vediamo se qua dentro eh sì c'è solo un modo per scoprire dove è andato qua c'è tipo un parkour da fare ma vabbè lasciamolo perdere e boh chissà perso andiamo a cercare altre ceste non ci rimane altro per fare ecco whatsapp c'è il mio isplus per rompere le scattole eh niente ignoriamo whatsapp yeah ignoriamo whatsapp vabbè intanto che corro così in orizzontale mettiamo se qualcuno non vedo nessuno ok qua ci deve essere qualcosa però tipo una cesta qua dietro no oh cavolo spada in pietra cioè spada in legno vai 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 sciottiamolo no con lo stick ottimo rto e buca buca allora vediamo cosa aveva ah lo scarpetto molta roba in ferro cioè il pantalone in ferro ottimo eh quello shot quando l'abbiamo shotato prima eh gli è costata la vita è stato così stolto da non vabbè eh sì avevo un po' di armoni in ferro dai adesso va decisamente meglio sì ma non c'è bisogno di andare a cercare la gente la gente viene da me proprio THX grazie aspetto voglio no voglio il tempo eccoci alla fine della mappa workbench muori ah non mi da nemmeno il pezzo di lana oddio oddio ecco c'è qualcosa eccola qua eccola qua la cestina solo un lingotto di ferro dai un'altra abbiamo la workbench qua proprio best crafting anzi più che altro il più facile crafting del mondo adesso tra poco rifillerano le ceste eccolo quello che no quello era Har Hebald Har Hebald quello che ho visto prima torniamo allo spawn dai anzi prima guardiamo in queste macchine perché queste pseudomacchine ecco che di solito ecco qua nascondono delle ceste con una bella sorpresa un bel lingotto di ferro per Natale non è Natale però va bene un bel lingotto di ferro per me no quattro tributino taranana andiamo a proseguire da qui xcreeper d ah sarebbe tipo creeper xd xd creeper ecco qua la workbench ottimo ecco qua la spadina in ferro biscottini via vabbè fa più ok mangio un biscottino e ci dirigiamo allo spawn oh maiale ho bisogno di cibo lo chilo ecco inaugurazione della spada eccola qua la bistecchina cruda eccola qua oltre eeeh ma sto correndo ah si forse più o meno lento ma corre non è quello che aveva la chest plate in ferro è rimasto vivo ne sono quasi certo non lo so sto sparando ecco 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 e dai 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 no sono morto io accidenti spada in diamante accidenti uffi vediamo gli altri ok questo era messo malissimo non aveva nomeno in piedi e le scar eeeh le cose ecco l'altro accidenti potevo giocarmela molto meglio butti in diamante ah vabbè tanto deathmatch spada in legno che cavolo vabbè per ora è tutto ci vediamo in un prossimo episodio arrivederci un prossimo episodio